Salve oggi parliamo degli dracidi. Gli dracidi sono dei composti binari costituiti da idrogeno e da un non metallo. I non metalli classici sono quelli del gruppo 7A cioè gli alogeni. Tra questi due elementi si ha una netta differenza di elettronegatività per cui l'idrogeno avrà stato l'ossidazione più 1. Nella nomenclatura dobbiamo fare due distinzioni tra quella IUPAC e tra quella tradizionale. In quella tradizionale tutti i composti si chiameranno acido, il nome del non metallo e termineranno tutti in idrico. Esempio prendiamo HCl stato di ossidazione meno 1 più 1 quindi come verrà chiamato acido cloridrico. prendiamo in esempio un altro composto in questo caso lo zolfo assume stato ossidativo meno 2 anche qui al pari degli idruri sotto l'idrogeno andremo a mettere il pedice che è pari a quello dello stato di ossidazione qualora fosse maggiore di 1. Quindi il composto sarà il seguente e verrà chiamato acido solfidrico. Un altro composto HBr anche qui l'idrogeno più 1 il bromo meno 1 il termine sarà acido bromidrico. Prendiamo invece la nomenclatura quella diciamo IUPAC. in questo caso della IUPAC verrà chiamata come l'X dell'halogeno uro di idrogeno. Quindi in questo caso come si chiamerà il primo composto? Si chiamerà cloruro di idrogeno, il secondo si chiamerà solfuro di bi idrogeno o di idrogeno, l'altro composto bromuro di idrogeno. Ora volevo inserire tra gli idracidi il seguente composto che viene chiamato nella nomenclatura tradizionale come acido cianidrico mentre nella nomenclatura IUPAC cianuro di idrogeno. Perché ho inserito questo composto? Perché il gruppo cianuro ha complessivamente uno stato di ossidazione meno 1 spesso lo potremmo trovare nelle reazioni per cui impariamo a utilizzare questi composti costituiti da due elementi che hanno stato l'ossidazione meno 1 e quindi verrà considerato come se fosse un unico elemento chimico. Ho terminato la lezione, se vi è piaciuta iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like.